Bentornati. Come prima cosa chiariamo le differenze tra il nome, la ragione sociale e il dominio. La ragione sociale è quella che serve per i documenti ufficiali, quindi togliamocela perché ci interessa il giusto. Quello che ci interessa principalmente è il brand, ovvero il nome con cui tutti quanti ci conoscono. Anche il nome del dominio è scollegato dagli altri due, però il nome del dominio e il brand devono avere un minimo di coerenza fra di loro. Ci arriveremo. Allora, i casi sono due. O avete già un nome in testa e a quel punto si fanno una serie di verifiche per vedere se quel nome possa andare bene o magari con piccolissimi aggiustamenti. Diversamente sarete nella condizione tragica dello scrittore quando ha di fronte la pagina bianca che non sa la prima parola che vuole scrivere. Risolviamo questo impasse con una scaletta. Allora, facciamoci un piano di lavoro e al primo punto cominciamo a raccogliere tutti i dati che ci possono essere utili. Quali sono questi dati? Intanto magari i nomi dei concorrenti per evitare di andare a sovrapporci. Poi potrebbe essere molto utile una SWOT analysis della nostra attività e una serie di valori, ovvero la lista delle qualità per cui voi vorreste essere conosciuti e riconosciuti rispetto magari al mercato e alla concorrenza. E un diagramma di posizionamento sul mercato per vedere dove sono andati a posizionarsi i nostri competitor e dove magari possiamo andare a posizionarci noi. Se invece abbiamo già lavorato molto bene sul posizionamento, abbiamo già dei dati da cui partire. Una volta che avete raccolto questo materiale e magari avete uno schema del posizionamento con i loghi dei vostri competitor posizionati sul diagramma, guardatevelo bene e fateci una dormita perché scoprirete già qualcosa di importante su di voi. Non è un corso di yoga, tranquilli, andiamo avanti. Valori, potete sfruttare i colleghi e carta e penna, ognuno scrive i 4, 5, 10 valori che, secondo lui, l'azienda possiede o sta mirando a raggiungere. È molto figo usare la lavagna con i post-it per i valori. Come ultimissimo passaggio della fase 1, possiamo riassumere quello che abbiamo raccolto finora con uno script, ovvero una mezza pagina, a dir tanto, in cui riscriviamo le cose che non devono mancare. Il brand dovrà evocare dinamismo e far percepire la presenza del nostro team di giovani motivati, l'attenzione ai dettagli e l'accoglienza verso il cliente. Il nostro servizio è più economico e rapido, grazie alla minor burocrazia e a un uso intelligente dei sistemi informatici. La nostra clientela è nazionale e poco propensa all'uso di parole straniere, se non di livello base. Evitare le doppie per evitare possibili problemi sotto dettatura. Oh, brainstorming, qui ci si diverte. Non incentiviamo l'alcolismo, ma sappiate che il brainstorming si può anche fare dopo una bella birretta con i colleghi, perché la cosa importante del brainstorming è sospendere il giudizio. Vale tutto. Nomi di città, colori, luoghi, profumi, cose viste, oggetti che piacciono, parole senza senso. Insomma, non siate timidi. Se un'azienda ortofrutticola si è messa a produrre con un discreto successo computer e software, probabilmente voi non farete di peggio. Qui mi aspetto la citazione, c'è un film. Se nel brainstorming avevamo prodotto una lista di 5, 10, 50 nomi tra cui scegliere, nella scrematura dovremo eliminarli tutti quanti finché ne resterà soltanto uno. Altra citazione. Oggi sciambola. Per cui dobbiamo essere spietati e rigorosi nel fare il tiro al piccione. Cioè, qualsiasi nome non soddisfi i criteri, che ora vediamo, lo dobbiamo eliminare. Un buon trucco è quello di cambiare le persone. Chi ha fatto il brainstorming non partecipa alla scrematura e viceversa. In questo modo si spezza qualsiasi legame sentimentale tra una persona e la parola che gli piaceva tanto. Punto primo, brevità. Questo è importante, ovviamente più è breve meglio è, perché poi ci saranno webmail aziendali, sito web, eccetera, che più sono lunghi più sono difficili. La chiarezza, altro non è che la comprensibilità, ovvero la facilità con cui viene pronunciato questo nome e orecchiato, compreso, da chiunque, stranieri compresi. Coerenza con i valori. Ecco, non possiamo scegliere una parola, un nome che contraddica tutte le cose per cui stiamo lavorando. E già qui c'è una scelta, perché non è facilissimo mettere insieme dei valori che sono contrapposti fra di loro. Sono entrambi positivi, ma magari abbiamo velocità e cura del prodotto del servizio, oppure tradizione e innovazione. Sì, si può giocare su questo match, ma non è facilissimo, ecco. Musicalità e forza. Ecco, io qui suggerisco uno stress test, ovvero pronunciare il nome in esame in tutti i modi possibile, con accenti, con difetti di pronuncia, immaginandosi una difficoltà di comunicazione, interferenze o qualsiasi cosa, e valutare come viene ricevuto, come viene percepito da chi lo sta ascoltando. Quando esaminiamo la musicalità di un termine, di una parola, dobbiamo anche ricordarci di escludere quei termini che, anche lontanamente, possono dar luogo a fraintendimenti, doppi sensi volgari, eccetera, e quelli vanno proprio bannati completamente. Se il nome è equivoco, cioè troppo simile a quello di un'altra attività, o peggio ancora, di un competitor, il mio consiglio è quello di lasciar perdere. Meglio scegliere un nome originale, diverso, molto diverso, per evitare che la nostra pubblicità vada ad avvantaggiare qualcun altro, oppure che le recensioni, magari negative, di un nostro competitor arrivino a noi per sbaglio. SEO, capitolone, con una serie di video dedicati. Quindi, andateveli a vedere, ma ricordatevi che il vostro nome, se è un nome descrittivo, ha delle implicazioni SEO. Ultimo punto, geografia. Ricordatevi che potete completare il vostro nome, aggiungendo magari il nome della vostra città o dell'area geografica in cui operate. Una volta selezionato il nome, attraverso tutti i criteri che abbiamo visto, questi o quelli che deciderete voi di utilizzare, la cosa che, secondo me, è importante è verificare il dominio internet. Quindi, il nome che è stato scelto deve essere disponibile come dominio, possibilmente .com o .it. Poi ci sono anche i .net, .express, .nature, quello che volete, utili anche dal punto di vista SEO, ma ricordiamoci che .it e .com andrebbero sempre comunque presi. Visto che costano qualche decina di euro all'anno, noi, proprio questa settimana, abbiamo fatto una cosa diversa. Cioè, prima ancora di scegliere il nome del sito, abbiamo bloccato una dozzina di nomi dominio, in modo tale che poi si andrà a definire, in base alla SEO e alla scelta del cliente, quello che sarà effettivamente il principale. Gli altri, magari, li manterremo con un reindirizzamento. Il quarto punto, in realtà, non esiste. L'ho inventato io, l'ho aggiunto, perché, secondo me, il nome del brand da solo ha un effetto molto limitato. Si completa, si concretizza, quando si vanno poi ad aggiungere il marchio e il payoff. Noi adesso non ne parleremo dettagliatamente, ma con la grafica e con una frasettina sotto si può aggiungere un senso o risolvere una problematica di contraddizione, di comprensione che magari aveva creato il nome. Quindi io posso azzardare un pochettino di più nella scelta del nome, se poi so che la grafica e il payoff me lo completeranno rendendolo funzionale e gradito nell'insieme. Conclusione nella conclusione. Ricordiamoci il fattore emotivo, che secondo me è il più importante di tutti, ovvero, se il vostro nome non vi piace, tutta la parte che abbiamo fatto prima non serve a niente, perché il vostro nome genererà una vibrazione negativa, un mood, per cui lavorerete male e tenderete a sabotarvi voi stessi. Quindi, se avete un nome che vi piaceva e vi piace fin dall'inizio, lasciate perdere tutto il resto e utilizzate quello. Al massimo, con i fattori secondari, grafica e payoff, potete cercare di risolvere eventuali contraddizioni e problemi. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, come sempre. Ciao!